dovrei essere in diretta credo io ogni volta ho qualche problema a capire quando parte la diretta ecco c'è un cuoricino che viaggia quindi sono in diretta ciao a tutti io sono teo e questa è la diretta dominicale di cinefax come vedete a fianco a me non c'è la chiacchi perché mi ha abbandonato per qualche giorno per andarsi a fare un giro con i suoi spero sia un giro con i suoi ma sono convinto di sì perché altrimenti lei sa che in caso contrario farebbe la fine di boxing elena non so se qualcuno di voi ha visto quel terribile film di un sacco di anni fa con la sherrylyn fan che è quella che fa odry horn in twin peaks ecco il film è veramente orrendo però potrebbe dare un'idea nel caso ciao ecco vedi ciao ciao con i suoi ciao tecla ciao lens siamo in famiglia praticamente due dei miei meravigliosi moderatori del gruppo della pagina dunque sono da solo non c'è la marge la mia fantastica tartaruga decenne che è con me da ormai appunto dieci anni che è qui che se la girella tranquilla sul tavolo e in onore del compleanno odierno di sigurny weaver indosso una magliettina che i più attenti di voi avranno già capito a cosa si riferisce allora ciao federico ciao sarah e ciao tecla è appunto in vacanza con i suoi è in vacanza con i suoi io mi fido di lei appunto in caso contrario boxing elena date a vedere cosa succede a sherrylyn fan in boxing elena e quello sarebbe il risultato nel caso non fosse in vacanza con i suoi sono una persona molto tranquilla e delicata allora hola ciao francesco dunque innanzitutto ringrazio tutti quanti i contributori che stanno donando sulla campagna di raccolta fondi di cinefax perché per i pochi mi auguro pochi che ancora non dovessero saperlo per quelli che lo sanno già sento già che dicono mi due coglioni basta e lo so però devo raccontarle le cose non è che posso dare per scontato che lo sappiano tutti c'è sempre solito che c'è sempre nei miei video è no non ti faccio vedere cazzo vuoi arriverà un altro giorno in cui farò vedere chi sei dunque cinque settimane or sono mi hanno zanzato il computer e gli hard disk aprendomi la macchina e quindi in questo momento sono in questo momento ormai fin troppo lungo sono un po nella merda perché non riesco a stare dietro la pagina e al canale youtube e a un sacco di altre cose che stanno per arrivare alcuni di voi che stanno commentando già lo sanno di cosa si tratta ma gli altri no ma lo vedrete è una cosa enorme e insomma un sacco di spese fondamentalmente siccome non sono ricco nonostante il mio cognome potrebbe dare adito a delle credenze sul fatto che possa essere imparentato con qualche emiro non è così e quindi niente vi chiedo una mano per farmi sentire meno i danni del furto subito tanto comunque il computer non lo devo comprare lo stesso non è che posso non averlo però magari mi potete aiutare in tal senso ci sono un sacco di ricompense cinefile e cinefaxare andate a dare un'occhiata su ulule.com slash cinefax che tra l'altro io ho qua ancora il tacquino di settimana scorsa dove non mi ricordo chi mi aveva chiesto scrivilo al contrario e questo è il risultato sembra la calligrafia di un medico epilettico però si capisce ecco andate a questo indirizzo qui e trovate la campagna di crowdfunding dove ci sono un sacco di compense cinefile carine io ringrazio tutti quelli che finora hanno donato perché siamo all 86 per cento chi non sa come funziona ulule glielo spiego in un attimo se arriviamo a 2.990 e si chiude la campagna io non vedo un euro e tutti quelli che hanno donato non vedono i loro soldi scalare dal conto corrente quindi bisogna arrivarci non è sufficiente aver fatto tanto bisogna fare tutto quanto la campagna si chiude il 31 ottobre che è il giorno di halloween quindi anche cinematografica anche da quel punto di vista lì e mi auguro di arrivarci perché sarebbe una bella cosa sarebbe un'ulteriore dimostrazione di quanto questa community sia figa allora ciao ciao dante ma pensa te francesco di marcantonio mi manda dei dollari grazie però così serve a poco a me si è bloccato tutto tecla non capisco che cosa la diretta vabbè cosa cosa dire posso raccontarvi ad esempio che domani concludiamo le riprese del videoclip dell'ingranaggio di cristallo c'è il pezzo che ho scritto che abbiamo fatto con i miei dai mama per il film di cotto e frullato facci complimenti a paolo cellammare e maurizio merluzzo che si sono portati a casa due premi dal barcellona planet film festival uno come miglior sceneggiatura e uno come miglior attore quindi il nostro merluzzone nazionale si è portato a casa un gran bel premio e la cosa mi fa molto felice ciao belisi oh già minchia al pane ciao alessandro si è bloccato tutto ma ormai da qualche anno ciao ilario ciao tecla tecla scrive piangendo non so cosa possa voler dire tutto ciò comunque ciao va qua la marge la marge che per chi non lo sapesse è una lontana parente della tartaruga di cannibal holocaust e infatti lei soffre molto adesso non ascoltare soffre molto quando parlo di quel film perché si ricorda la sua bisnonna che su quel set non ha fatto una bella fine se non sapete di cosa sto parlando non so neanche se consigliarvi di di vederlo quel film è un po controversa la cosa è un particolare ne ho raccontato un sacco di cinefax in merito ospite di victor laslo 88 che colgo l'occasione per salutare anche lui perché mi fa un sacco ridere ed è un figo ciao teo quelli che quelli che svapano ma pensate non so chi siate evidentemente gente che svapa però vi saluto anche io ciao e quindi volevo dirvi che la campagna continua in settimana farò attivare si è incastrato un pezzo di carta vabbè in settimana farò attivare altre due nuove ricompense che secondo me potreste trovare molto intriganti e interessanti mi rivolgo a chi di voi ha una pagina facebook che magari è interessato a promuovere beh ci saranno due ricompense nuove sbloccate in settimana riguardanti questo aspetto quanti anni ha marge ilario e marge ne ha dieci perché è nata all'estate del 2007 siccome l'aspettativa di vita delle marginate lei è una testudo marginata anche per quello che si chiama marge è circa sugli 80 anni teoricamente se la tratto bene mi sopravvive che è una cosa che fa un po strano se ci pensi un animale che vive più di te ciao leone cannibal deve essere molto pesante è un po pesantuccio sì in effetti sì è particolare nel senso che è a tutti gli effetti il primo film che ha fatto del found footage la sua fortuna tanto che il regista è dovuto andare in tribunale a spiegare che in realtà quello che succede nel film non è successo veramente cioè non aveva impalato la gente ma si è fatto uno sbatto incredibile perché lui per far credere a tutti che in realtà era vero aveva detto agli attori di nascondersi e di scomparire dalla circolazione poi si è trovato in tribunale e ha dovuto richiamarli per dire magari forse è meglio che vi facciate vedere così almeno non mi mettono in galera comunque vabbè sono tutte cose molto belle ti do la mano teo grazie per paolo wow wow immagino per gli anni di marge cosa c'è marge se ti vedo perplessa non lo so è stranita da qualche cosa non ti piace il tavolo eh io ti libero dalla tua gabbietta dorata e ma non ti vedo molto soddisfatta della cosa vabbè e cos'altro vi posso raccontare allora in tanti mi state chiedendo dammi un tuo parere su mother di aronofsky non l'ho ancora visto lo vedo domani sera dammi un tuo parere su blade runner 2049 non l'ho ancora visto lo vedo martedì sera questi giorni essendo momentaneamente single mi sono organizzato un sacco di cose da fare e quindi andrò al cinema due serie di fila a vedere i film del momento praticamente sono molto curioso cosa ti aspetti dal nuovo blade runner banalmente che sia un bel film proprio la cosa più normale del mondo sono molto legato al primo è a tutti gli effetti uno dei miei film preferiti e infatti si trova anche qua sopra sul mio braccetto cinematografico che è sempre in progress prima o poi lo finirò vero donash eh mi rivolgo al mio tatuatore che è anche il mio batterista vero che prima o poi lo finiamo sto braccio perché non è che posso andare in giro col braccio a metà per troppo tempo eh faccio una mini promo anche al donash se guardate che figata l'ultimo lavoro che mi ha fatto che è il mio ettore il cameraman l'ho fatto il giorno che ho compiuto 20 anni di cameraman eh se uno di voi abita in vicino milano le vicinanze milano vada da blue ink a bucinasco a farsi tatuare dal donash perché come vedete è veramente molto bravo eh l'hai visto il gioco di no eh ho letto il libro una vita fa di king eh di eh tarta jpg non la vedo la jpg ma immagino quanti tatuaggi hai una decina credo adesso non lo so c'ho questi qua sul braccio di qui questo che non si vedrà mai che è il primo che ho fatto a san francisco poi c'ho questi due qua e poi ce ne ho uno qua sopra che però aspetta che madonna che bordello è un po un bordello da far vedere che è questo qui così dove c'è scritto il titolo della prima canzone che abbia mai scritto ed è sempre del donash il tatuaggio molto bravo lui il donash eh allora cosa ne pensi di maps to the stars che mi è piaciuto parecchio cioè eh allora non è il solito cronenberg al quale eravamo abituati ma ormai dovremmo dovremmo essere abituati al fatto che non è più il cronenberg a cui siamo abituati però l'ho trovato eccezionale a parte julian mull che è sempre brava ma è una roba corrosiva nei confronti della società losangelina è una roba tra l'altro è il primo film vedi mi escono i cinefax in automatico il primo film girato da cronenberg a los angeles cioè lui prima aveva girato praticamente quasi solo in canada dalle parti sue invece questo l'ha voluto girare proprio nella terra del peccato eh allora vedrai il film ferrari 312b non è proprio uno di quelli che dico non vedo l'ora di vederlo però magari sì giusto per cultura generale me lo vedo alla fine poi vabbè se si tratta della ferrari eh la ferrari è sempre la ferrari personalmente non è che segua molto la formula 1 perché non mi appassiona più di tanto ci ho anche lavorato ho fatto due premi di formula 1 a imola una vita fa facendo il camera macchia quello faccio nella vita e fa un po' effetto perché micchia quando li vedi dal vivo viaggiano e fanno un casino ti danno le cuffie antirumore per lavorare quelle proprio che si appiccicano le orecchie senti solo in cuffia senti solo la regia io per sfizio una volta che ero su una gru a 6 7 metri d'altezza sopra una chicane praticamente quasi dalla parte opposta del traguardo cioè questo vicino a dove purtroppo è scomparso senna io per sfizio una volta mentre mi passavano sotto le macchine che facevano chicane poi aprivano il gas mi son tolto la cuffia ho quasi perso l'uso di un timpano fanno un bordello della madonna quei motori lì comunque al di là di quello dove hai studiato per fare il cameraman io ho fatto le scuole superiori all'Izzos di Milano di una volta quello di adesso è un po' cambiato diplomato nel 96 quindi e studiando cinema e televisione poi ho fatto la scuola del cinema di Milano che adesso si chiama Lucchino Visconti e contemporaneamente facevo un altro corso privato come cameraman vicino Milano a Segrate e sono quelli che praticamente dopo tipo due mesi di corso mi hanno detto ma senti vuoi lavorare per noi e ok è stata una figaggine nel senso che io pagavo a loro il corso e loro pagavano me per lavorare e ho iniziato così tipo era luglio mi sono diplomato a novembre già stavo lavorando non sono tanti quelli fortunelli come me ecco questo lavoro lo volevo fare da quando ero ragazzetto e direi che mi è andata molto di culo che squadra tifi io cerco di evitare le discussioni che riguardano religione politica e calcio perché sono i tre argomenti che dividono chiunque cioè uno magari ti sta simpatico per un sacco di motivi poi scopri che non la pensa come te su uno di questi tre argomenti basta non ti interessa più quindi eviterei mai in quanto milanese in quanto del giambellino quartiere popolare non posso che essere milanista con tutti i pregi e i difetti del caso allora cosa ne pensi di festen festen sai che non l'ho visto o mi confondo con gli idioti forse mi confondo non lo so dovrei andare a rivedermelo non ne sono così sicuro di averlo visto comunque sulla questione dogma 95 c'ho le mie idee sta un po' sul cazzo me quella situazione lì di von trier cioè era una provocazione che sì ok ho capito perché l'ha fatta ma il fatto di fare un film senza supporti senza musica senza fotografia con la macchina a mano aveva già fatto la nouvelle vague 30 anni prima godard rené truffo avevano già dette quelle cose c'era bisogno di farlo di nuovo con il manifesto con il programmatico con le cose e poi alla fine von trier quanti ne fatti seguendo il dogma quanti è appunto quindi ma mi è sembrata un po una roba un po così hai visto mother no l'ho detto prima lo vedo domani sera domani sera vado a vedere mother e quindi sono molto contento di vederlo hai visto madre io ancora no purtroppo esattamente neanche io come ho appena detto che film horror mi consigli di vedere è un'ottima domanda io non sono ferratissimo lo ammetto anche perché ultimamente ad esempio il tanto declamato it follows mi attirerò un po di critiche ma ammetto che non mi ha detto niente ce l'ho trovato un po così ho un'occasione buttata via con delle scene francamente imbarazzanti tra della piscina che tirano dietro i tostapani non lo so mi è sembrato un po un film di serie b ma neanche così camp cioè film di serie b hanno una loro dignità in quanto serie b it follows non lo è ma lo sembra è un po peggio forse erano troppo alte le aspettative avevano parlato come wow il film della madonna film horror eccezionale non lo so devo ancora vedere the witch che invece so che pare che sia un film eccezionale anche quello ma non l'ho ancora visto condivido ah vedi condivido meno male l'inganno no non l'ho visto ultimamente non è che stia vedendo molta roba eh ammetto parte che sto vedendo fin troppe serie tv e pochi film purtroppo faccio questa ammenda ma poi c'ho un sacco di cose da fare a cui star dietro che scoprirete tra poco quando sarà presentato al mondo questo mio progettone gigante e quindi non ho tutto sto tempo come vorrei avere invece di the kingdom è cazzarola bravo the kingdom invece è una figata incredibile l'ho visto mille anni fa e mi ha terrorizzato tantissimo è veramente strano ha un'atmosfera particolarissima c'ha sta pasta visiva che sporca è porco cane the kingdom è bravo non me lo ricordavo the kingdom è assolutamente da consigliare conosci federico buffa lo conosco non di persona non ci ho mai lavorato lo conosco di fama seguendo io una vita fa la pallacanestro come fai non conoscere federico buffa the florida project sincero non so neanche cosa sia loving vincent pare un pare figo quindi sì lo vedrò perché mi interessa parecchio bloodline non l'ho visto gli ultimi film sia di tv che mi hanno colpito di più allora come serie tv io vi consiglierei sinceramente l'ultima roba che ho visto che ho seguito che mi è piaciuta è ozark la trovate su netflix non vi dico niente perché a me a me me la consiglia vedi che parlo male quando sono in diretta è incredibile la cosa di non montare mi sega le gambe che già sono corte me la consigliarono senza dirmi niente mi dissero guarda ozark ho detto vabbè guardiamo ozark cazzo nel pilot c'è una roba che ti lascia un attimo ma che cosa cazzo sto vedendo pensavi di vedere una cosa invece è un'altra è molto figa veramente c'ha una fotografia curata tutta molto livida molto caratteristica e personale potrebbe sembrare una cosa simile a breaking bad ma in realtà non c'entra assolutamente una fava ed è consigliata ve la consiglio poi cos'è che ho visto l'altra sera perché me l'ha consigliato tecla ho visto le prime 3 4 puntate di big mouth la serie di animazione che si trova su netflix e l'ho trovata assolutamente folle e divertente e mi ha riportato ai tempi in cui avevo io 10 11 anni e avevo a che fare con le prime ormonelle comunque è divertente se ti piacciono le robe un po le robe che sembrano per ragazzini ma in realtà sono per adulti big mouth non è male secco di westward cosa ne pensi che è una roba meravigliosa è assolutamente una roba meravigliosa prima che uscisse l'ultimo twin peaks probabilmente westward ti avrei detto che era la più bella serie che avessi visto quest'anno poi però è uscito twin peaks e quindi westward è andato al secondo posto cosa ne pensi ah vedi tecla che sorride immagino si riferisca a big mouth ho rivisto blue velvet qualche cine fact con calma su blue velvet che è veluto blu era uno di quelli che avevo girato e che ho perso negli harddisc con il furto di quei pezzi di merda che sono tra l'altro qui vicino cioè non sono neanche tanto lontani e quindi no non te li dico adesso te li dirò poi nel video fatto bene allora ulisse ulisse bar io lo so chi sei ulisse ma non lo dico ok idem allora voglio secondo te il metodo di ted mosby giusto di altra confessione questo video è pieno di confessioni imbarazzanti non ho mai seguito how i met your mother ho visto le prime credo due tre puntate mi diceva niente e non l'ho più seguita non lo so magari ho sbagliato è però perché ho visto che ha avuto un successo della madonna ma in realtà non non mi è ma non mi ha mai appassionato commenti sugli emis commenti sugli emis allora sono curioso di vedere di andman's tale che non ho ancora visto e si è portata a casa una valangata di premi vip continua la giulia della dreyfus ormai praticamente cioè è come una volta si diceva i campionati di calcio i campionati i mondiali di calcio sono quelli dove si incontrano un sacco di squadre e vince la germania adesso gli emis sono quell'evento con la cerimonia cinematografica televisiva dove un sacco di gente si incontra per dare un premio alla dreyfus perché continua a vincere lei e tra l'altro l'ultima puntata la 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 nuova puntata dei griffin che ho visto ieri sera e stavo male da ridere l'ho anche scritto in un post è la puntata fatta per ottenere un emi guardatela ci sono miliardi di riferimenti chiaramente se uno ha visto le serie di cui fanno riferimenti a cui fanno i riferimenti di cui fanno i plagio proprio dichiarati è più divertente perché riesce a cogliere tutte le cose che stanno dicendo quindi breaking bad homeland house of cards orange is the new black poi cos'è che hanno buttato dentro oddio non me ricordo neanche più ma tantissime c'è lui ck che a un certo punto compare c'è aron sorkin che fa passeggiata con peter con la camera che lo segue in sequenza come nei film di aron sorkin scritti da aron sorkin dove ci sono i personaggi che continuano a parlare sempre senza sosta senza fermarsi mai e la puntata dei griffin fa veramente ridere io li adoro di brutto i griffin erano un paio di stagioni che non facevano così ridere questa puntata potrebbe essere l'inizio della rinascita che ne pensi di mother che non l'ho visto lo vedo domani sera è bello perché la citazione della germania era di buffa detta da lì sai che forse sì non me lo ricordo beh ha un tumore al seno la drive non lo sapevo non ne avevo idea che cosa triste vabbè le auguro tutto il bene possibile speriamo possa combatterlo e vincerlo vip è una serie come ti preferite è divertente però non lo so forse non tocca troppo le mie corde modern family invece mi fa spaccare ogni volta modern family è una di quelle serie dove sinceramente io se dovessi decidere un personaggio preferito non saprei dirti quale perché sono quasi tutti fighissimi a parte lì è anche figa anche lì lì vabbè forse è la meno figa di tutte perché comunque è una bambinetta però è figa anche lei e la cosa divertente è vedere che questa ragazzetta qua attrice marge sei pericolosamente vicina al mio polso e so che adesso mi dai un mozzico intanto per quelli arrivati adesso faccio salutare marge se ci pensate l'attrice che fa lì praticamente sta crescendo all'interno di un set televisivo cioè sul set televisivo la sua vita è principalmente quella roba lì chissà questo cosa potrà causare cosa potrà lasciarle dentro in futuro non credo che modern family possa andare avanti 25 mila anni oddio magari sì però in ogni caso quella bambina lì era una bambina e sta continuando a crescere e ogni volta recita su modern family sta cosa è strana cioè non è come i bambini nei film recitano un film magari fanno il sequel magari hanno problemi con i genitori che controllano il loro patrimonio magari poi diventano dei bambini che fanno delle scelte brutte sì mi sto riferendo a Macaulay Culkin di Mammo Perso l'Aereo ma anche ad altri anche Drew Barrymore che fece E.T. finì nella merda poi si è ripresa Drew Barrymore però ha avuto un periodo brutto Edward Furlong quello di Terminator 2 e di American History X avete visto che fine ha fatto lui era meno bambino era un po' più ragazzino però ha fatto delle scelte orribili anche lui i ragazzini di Harry Potter invece a parte uno dei due scagnozzi di Malfoy che ha fatto una finaccia orrenda poverino l'hanno anche estromesso dagli ultimi due film l'avevano beccato con della gangia con la gara finita in galera ha fatto una cazzo di tipo cosa stai facendo? sei un attore hai davanti a te un futuro radioso va perché ti infili in quelle situazioni lì? vabbè comunque una roba sono i bambini dei film un'altra roba sono i bambini dei telefilm perché quelli proprio crescono lì dentro non lo so mi fa strano sto pensiero se non sbaglio se non sbaglio ci saranno solo altre due stagioni non lo sapevo Lily e Manny sono odiosi non è vero Manny fa ridere Manny è il bambino adulto ci sono esistono e fanno molto ridere anche nella vita reale tra l'altro se lui è odioso vuol dire che l'attore è molto bravo perché chiaramente quel ragazzino non è così nella vita come vedi il futuro uh domandona come vedi il futuro di Netflix e più in generale i servizi di abbonamento di streaming allora intanto credo lo sappiate già Netflix da domani anche in Italia aumenta gli abbonamenti non di tanto l'abbonamento da 7,99 rimane uguale quello da 9,99 che è quello che ho anch'io aumenta di 1 euro al mese quello da 11,99 aumenta di 2 euro al mese che non è tanto alla fine cioè quello da 10 euro diciamo diventa 12 no diventa 11 sono 12 euro all'anno in più però cominciano ad aumentare il futuro il futuro purtroppo il futuro le dico purtroppo secondo me il futuro è in mano loro perché banalmente e da quando esistono anche le VHS c'è un sacco di gente che non ama il cinema ma a cui piacciono i film che sono due cose un po' diverse che non ha tutta sta voglia ogni volta di vestirsi uscire magari cercare parcheggio andare a comprare il biglietto prendere i popcorn spendere un sacco di soldi per andare a vedere un film al cinema se può vederselo a casa un sacco di gente scegli di vederselo a casa il problema qual è? che questa cosa va benissimo lo streaming è una figata gli on demand anche ce l'ho anch'io Netflix quindi non è che non ce l'ho il problema nasce quando? quando Netflix appunto o Amazon o Hulu o chi per loro decidono di produrre dei film per poi non mandarli al cinema allora quello è un po' una merda ma si è bloccato tutto io non so se voi mi vediate ancora non capisco cosa stia succedendo tra l'altro mi sono bloccato con una faccia veramente buffa cosa? pronto? sì? no qua mi dice che sta andando avanti la diretta ma io mi vedo bloccato tra l'altro con una faccia orrenda sembro veramente fattissimo comunque il problema nasce secondo me io vado anche a parlare per chi mi sta sentendo o vedendo grazie a tutti Grazie.